Ciao ragazzi, vi mando questo video per invitarmi a firmare la petizione per sbloccare la legge ZAN che da troppo tempo è ferma in Senato. Una legge contro i reati di odio esiste già e si occupa di punire le violenze basate sulle discriminazioni di sesso, razza o religione. Quindi si tratta semplicemente di espandere questa legge per evitare che vengano commesse violenze basate sulla discriminazione nei confronti dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e dell'abilismo. Quindi sarebbe una legge che non limita in nessun modo la vostra libertà di espressione, la vostra libertà di pensiero, potete continuare a pensarla esattamente come volete, vi limita nel caso in cui il vostro programma per oggi sia uscire e picchiare delle persone a caso per strada. Quindi in ogni caso per voi il tempo è ormai scaduto.